Il conto alla rovescia è già iniziato e la campagna elettorale entra più che mai nel vivo. Tra poco meno di un mese si vota anche ad Agrigento e in altri 12 comuni della provincia. Il 6 maggio si voterà dalle 8 alle ore 22 e lunedì 7 dalle ore 7 alle ore 15. Nel frattempo domani, mercoledì 11 aprile alle ore 12, scade il termine di presentazione della lista dei candidati alle amministrative così come deciso dal Consiglio dei Ministri. Nel capoluogo i candidati sindaco sono 5, tra questi viene una donna Mariela Lobello, ex segretario provinciale della CGL, sostenuta da Futuro e Libertà, MPA, API e Partito Democratico. Poi l'uscente sindaco Marco Zambuto con l'appoggio dell'Udc e del Patto per il Territorio. Salvatore Pennica, sostenuto dal Popolo della Libertà, Grande Sud, dal Movimento e Polis. L'uscente consigliere comunale Giuseppe Arnone. Gian Piero Carta, della lista civica Agrigento Bene Comune, con dentro i partiti Italia dei Valori, Sinistra Ecologia e Libertà e Federazione della Sinistra. Al voto anche a Aragona, dove non è candidato l'uscente Alfonso Tedesco. Due contendenti alla poltrona di sindaco. Giuseppe Pendolino, sostenuto da Fli, API, MPA, PD e Italia dei Valori. E' Salvatore Parello, candidato della coalizione composta da Affari Italia, PID, Udc, PDL, Grande Sud e autonomisti forti e liberi. A Sciacca i candidati certi a sindaco sono cinque, ma potrebbero diventare sei, con l'ascesa in campo del commissario della Sogeir, Vincenzo Marinello. I sicuri sono Fabrizio Di Paola, sostenuto da PDL, Sciacca al centro, Grande Sud, con Patto per il Territorio, Cantiere Popolare, Progetto Sciacca e probabilmente da Udc e Sciacca Più. Gioachino Marsala, sostenuto da PD, Fli, API ed MPA. Emma Gianni, concorre con la lista del Movimento 5 Stelle. Una lista a supporto di Enzo Guirrieri, quella di Sinistra Ecologia e Libertà. Una anche quella che sosterrà Pippo Turco, ovvero Italia dei Valori. I candidati al Consiglio Comunale sono circa 500. Sciacca si trova in amministrazione straordinaria dopo le dimissioni del sindaco Bono. Al voto anche il piccolo comune di Villa Franca Sicula, l'uscente Salvatore Di Salvo, è nuovamente candidato. Non si conosce ancora il nome dell'avversario che potrebbe essere una giovane di Sinistra Ecologia e Libertà. Si vota anche a Raffadali, dove l'uscente Silvio Cuffaro ha rinunciato alla candidatura. In corsa Giacomo Di Benedetto del Partito Democratico, Franco Laporta, sostenuto da una coalizione di centrodestra, e Angelo Salemi, appoggiato anche dall'API e dai lealisti. A Lampedusa e Linosa si ricandida l'uscente Dino De Rubeis, che dovrebbe sfidare Peppino Palmeri, segretario cittadino del PD, e l'ex sindaco Totò Martello. A Santa Margherita Belice, dopo la rinuncia del sindaco Franco Santoro, sono cinque candidati alla poltrona di primo cittadino. L'avvocato Salvino Barbera, poi Franco Valenti, l'ex sindaco Giorgio Mangiaracina, il segretario generale del comune di Partanna, Calogero Maggio, e Tanino Bonifaggio. A Montallegro l'uscente Giuseppe Manzone non si ricandida. In corsa per diventare sindaco vi sono il veterinario Giovanni Piruzza, con il sostegno anche di Grande Sud, Udc e Fli, e Pietro Baglio, che è sostenuto da PD, PDL ed MPA. Si vota anche a Cattolica Eraclea, dove i candidati al momento sono il ginecologo Nicolo Termine, il commercialista Giovanni Gentile e l'esperto di comunicazione Giuseppe Di Benedetto. L'uscente sindaco Cosimo Piro non è candidato. A Comitini vi è al momento il nome di un solo candidato alla successione di uno continuo, l'imprenditore Felice Raneri. Il suo avversario potrebbe essere uno tra Salvatore Bruno per la sinistra e Franco Zambuto dell'Udc. A Castel Termini è ricandidato l'uscente Nuccio Sapia. Il rivale potrebbe essere il consigliere provinciale dell'MPA Toto Scozzeri, mentre Udc e Fli punterebbero su Stefano Licata. A Bivone il sindaco Giovanni Panepinto ha annunciato che non si ricandiderà e soltanto domani saranno ufficializzati i nomi dei candidati. A Campobello di Licata in Corsa vi sono Angelica Falsone del PDL, Giovanni Picone del PD, mentre l'MPA dovrebbe proporre l'assessore provinciale Vito Terrana. Il comune di Campobello di Licata è orfano dal dicembre scorso del sindaco dopo la mozione di sfiducia all'ormai ex primo cittadino Michele Termine dell'Udc.